Nuove carrozze interamente dedicate al servizio bici. Questa la nuova sfida di Trenitalia che punta sempre di più sulla mobilità sostenibile. Ogni giorno i treni in circolazione saranno 18, ognuna con 64 stalli per un totale di 900 posti bici in più, 44 dei quali dotati anche di presa elettrica. Le tratte coperte saranno quelle sulla Sulmona Ancona, Pescara Termoli, Pescara Teramo e Pescara Sulmona. In Abruzzo il trasporto della bici è gratuito, nei limiti dei posti disponibili su ciascun treno, grazie al protocollo d'intesa sottoscritto da Trenitalia e Regione Abruzzo. Un'offerta molto importante che risponde alla crescente domanda che registriamo in Abruzzo su questo tipo di servizio. L'anno scorso abbiamo trasportato 12.000 passeggeri, i dati del primo semestre di quest'anno ci dicono già che sono in aumento di oltre il 40%. Al taglio del nastro presente è anche Armando Russo, responsabile commerciale e direzione business regionale di Trenitalia. Positivi i numeri del bilancio intermedio della Trenitalia Summer Experience in Abruzzo, più 27% per i trabocchi line e più 31% sulla Adriatica Nord rispetto al 2021. Che cos'è la Summer Experience? È un aumento delle destinazioni, raggiungiamo tutte le mete turistiche più ricercate, quando non lo facciamo da soli con il treno perché non c'è la linea, lo facciamo con altri operatori del trasporto, il bus o la nave addirittura in altri posti. Quindi riusciamo a creare un network di collegamenti che con un unico biglietto permette veramente di andare ovunque, anzi come diciamo noi ovunque e oltre. L'altro aspetto sono le promozioni estive, citiamo ad esempio la Junior, la Junior è quella delle famiglie. Bene, per tutta l'estate fino a fine settembre i ragazzi fino a 15 anni semplicemente in compagnia di un adulto che viaggia non pagano e questo ci sembra decisamente un aiuto che possiamo fare alla società italiana in questo momento, soprattutto di caro benzina.